Grazie, la mia posizione sul tema è penso ormai arcinota, ma voglio iniziare la mia dichiarazione anche con un'osservazione di natura regolamentare, non condivido la scelta di discutere di questo tema con una mozione ex articolo 58, perché penso tutti noi conosciamo l'articolo 58 che consente questa modalità di discussione delle mozioni per motivi di urgenza, non capisco quale sia l'urgenza visto che la scadenza del 15 gennaio dell'apertura dei varchi era nota fin da dicembre e quindi si poteva tranquillamente depositare una mozione ex articolo 109 magari nelle scorse settimane e discutere di questo tema in maniera diciamo così lineare, quindi già il fatto che si parli della ZTL con un'emergenza secondo me denota la qualità del dibattito che stiamo facendo. Poi con l'occasione ribadisco ancora una volta del no, che sono dei motivi di natura intanto squisitamente tecnica, come diceva anche il collega Corsetti, non esiste all'interno della ZTL Centro Storico offerta legale di sosta se non una manciata di posti auto, tra l'altro tariffati e non sufficienti neanche per i residenti, in via Barberini piuttosto che in qualche altra piccola piazza della ZTL Centro Storico, quindi di fatto non esiste offerta legale di sosta, quindi significa che il cittadino che volesse partire in automobili e arrivare nel centro storico, nella migliore delle ipotesi girerebbe a vuoto per cercare parcheggio, non voglio assolutamente pensare a sosta illegale, doppia fila e così via, senza contare poi che nelle aree di Mitrofe, alla ZTL Centro Storico esiste una serie di strutture, di parcheggi interrati che possono tranquillamente soddisfare eventualmente la domanda di mobilità privata, sapete io non sono assolutamente un talebano, non dico che tutti debbono andare in centro storico in bici, anche io spesso ci vado in automobile e lascio l'automobile in un parcheggio interrato, c'è quello di Vella Borghese che ogni volta è praticamente semivuoto ed inutilizzato e quindi chiunque giustamente voglia fare i propri acquisti in centro e in automobile può tranquillamente utilizzare i parcheggi in struttura che tra l'altro hanno delle tariffe anche abbastanza basse se paragonate a quelle delle altre capitali europee. Un ultimo appunto sul trasporto pubblico, aprendo la ZTL, il trasporto pubblico che giustamente si diceva in questo momento soffre anche dei vincoli normativi dettati dall'emergenza pandemica, chiaramente se c'è più traffico gli autobus vanno più piano perché occupano la stessa strada, se il trasporto pubblico è bloccato nella congestione è ancora meno performante perché oltre ad essere ridotta la capacità vengono in questo modo penalizzate anche le frequenze e quindi si crea un vortice al ribasso che penalizza il trasporto pubblico, quindi questi sono i motivi tecnici che mi portano ad esprimere la contrarietà a questa mozione, grazie.